Prova di ruotino, come vedete funziona alla perfezione, con questo ruotino la persona disabile su carrozzella può andare a fare qualsiasi escursione, Trentino compreso, vedete anche sterzare non diventa una cosa complicata e quindi si può andare tranquillamente su qualsiasi strada sterrata, ripeto qualsiasi strada sterrata non va bene per andare in spiaggia, va bene per andare su strade sterrate come siamo adesso. Grazie della vostra visualizzazione, a presto per il nuovo servizio.